GAMENTUBE ITALIA Con questo video voglio farvi vedere come si acquista una PSN card tramite il sito di Eneba Grazie al codice GT Italia potrete ottenere un ulteriore 3% di sconto Questo sito è un grandissimo sito dato che ha la possibilità di avere degli abbonamenti, delle gift card ad un prezzo veramente scontato Per esempio un Playstation Plus abbonamento di 12 mesi può costare fino a 41,89€ quindi un risparmio di 30% Una PSN card da 20€ può costare 16,78€ quindi un risparmio di 3,22€ Io al momento andrò ad acquistare una ricarica da 30€, vi farò vedere come si fa e come si inserisce il codice Procedo quindi ad aggiungere l'item nel carrello e procedo con il checkout Come vedete è molto semplice acquistare un prodotto Quella successiva cosa che devo fare è inserire il codice sconto Il codice sconto è GT Italia Adesso vi sto facendo vedere in diretta che sto acquistando questo oggetto Applica Come lo voglio scontare? Ok ho ottenuto 77 centesimi di sconto Quindi 30€ li andrò a pagare 24,89€ Direi un buon sconto Voglio pagare con la carta di credito Perfetto ho inserito tutti i dati della carta di credito Adesso li ho scurati giustamente per motivi di privacy Continuo Verifica la transazione Perfetto Ora non mi devo preoccupare Questo è il mio numero di telefono Mandami un codice Mi arriverà tramite messaggio Eccolo qua Quindi tutto fatto in totale sicurezza Continuo Qua altri codici Perché sto utilizzando la carta Perfetto Il mio ordine è stato completato correttamente Ora controllo la chiave Mi è anche arrivata una mail Mi è arrivato il codice Sia via mail Che tramite la piattaforma Alla quale appunto ho fatto l'ordine Nella mail il codice Eccolo qua Qua è stato Mi è arrivata la mail Con Il link Per ottenere la chiave Di nuovo avrò un item Un checkbox Da completare E questo è il codice Che devo copiare E incollare Nella mia Playstation Nulla di più semplice Nulla di più semplice